La festa della Madonna delle Grazie a Teramo il 2 luglio è la grande festa della città che si ripete ormai da decenni e che consacra ogni volta il territorio e la sua popolazione alla protezione di Maria Santissima delle Grazie. Un evento religioso che è supportato da tutta una serie di altri appuntamenti civili, un ricco cartellone curato dall'associazione culturale Teramo Nostra. Tante le manifestazioni civili, quali le più importanti? C'è la collaborazione con la Riccitelli, in più con la Benedetto Marcello che il 26 farà il Requiem di Mozart dopo la premiazione del premio Giandomenico di Sante e Anna Pepe. C'è anche l'Organetto di Tassone che è una scuola di organetto, c'è la banda di Mondorio, abbiamo cercato di includere tutta la nostra provincia perché questa è la festa di tutta la nostra provincia, non è solo la festa di Teramo. In tempi di non-Covid la processione tra le vie cittadine del 2 luglio della Madonna delle Grazie era un'usanza attesa e partecipata dall'intera popolazione teramana. A causa della pandemia questa tradizione sarà modificata e la statua di Maria Santissima sosterrà, nei luoghi simbolo della sofferenza, per poi ricevere dal sindaco di Teramo le chiavi della città. Come lo scorso anno ripeteremo la stessa esperienza, quindi la Madonna verrà accompagnata nei posti importanti della città, più significativi, ecco un conforto ai malati nella casa di riposo dei Benedittis, al cimitero per ricordare tutti i defundi, soprattutto di quest'ultimo periodo a causa della coronavirus, poi all'ospedale il mondo della sofferenza che ha sempre uno sguardo rivolto alla Madonna e poi dall'ospedale riscenderemo in città, il corso, una piccola sosta davanti alla cattedrale e poi arrivati a Porta Madonna ci sarà la consegna da parte del sindaco, questa consegna così simbolica, affidamento della città alla protezione della Madonna e poi rientro in chiesa, in santuario e la conclusione con una messa solenne.